E' salvia, ah non mi fa salvà? Non male che non è partita qualche scena, e salviamo, la prossima volta come detto andiamo avanti con la trama, ok è qua, aspetta un attimo. La lettera lancio i bassi fondi. Ok. Vedi, questo lo dovevo insegnare, cazzo. Ok, a questo punto risalvo. E stavolta ci salutiamo davvero. Ok. 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 Ok.